dati anche di altre regioni. Mi diceva stamattina la S. Coletto che oltre il 70% dei positivi hanno variante brasiliana. Hanno dovuto richiudere tutte le scuole, asili nido compresi, quindi 0, 18 come si possono definire, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola media secondaria superiore, alle superiori per capirci. Voi capite che questa non è una situazione sulla quale possiamo dormire tranquilli. Probabilmente per noi è pesato l'aver fatto tanto contattressi, molto probabilmente e lo sottolineo questo molto probabilmente, è un superlativo assoluto, è il fatto rappresentato anche dal fatto che noi non abbiamo aperto le scuole. Il mese che abbiamo avuto di vantaggio perché le altre comunità si ritrovano questa difficoltà. Allora, davanti a tutto questo voglio dirvi che, ne ho parlato anche stamattina col collega Bonaccini, noi dovremmo assolutamente fare una prima riunione tra Presidenti di Regione nelle prossime ore. Penso che sia fondamentale e poi prepararsi perché voglio ricordare che scade il DPCM il 5 marzo. Il 5 marzo è dopodomani, se ci togliete i festivi, i prefestivi e un po' di fuffa attorno, non è che ci restano tanti giorni di operatività piena. Quindi immagino che questo fine settimana sia un fine settimana importante per le prime riunioni. Dopodiché cercheremo di capire. Guardate, se poi guardiamo l'Europa, io so che voi le sapete meglio di Mestre Robin, ma ne approfitto anche per dirlo in diretta ai cittadini. Vorrei ricordare che la Germania è in lockdown dal 16 di dicembre e forse se lo sfanga verso i primi di marzo. Cioè, lockdown non vuol dire zona rossa, perché noi ormai ce lo siamo dimenticati il lockdown. Lockdown vuol dire tutto chiuso. La zona rossa sono le attività produttive aperte, che tu puoi andare fuori dei confini comunali per valide motivazioni di lavoro piuttosto che di salute o di necessità. Insomma, è un'altra roba. La Germania ha già fatto forse il suo secondo grande lockdown, la Francia il secondo grande lockdown, la Gran Bretagna il terzo lockdown. Quindi in un contesto come questo non vorrei che qualcuno pensasse che Veneto possa restare all'infinito un'isola felice. Quindi veramente la mia preghiera nell'attesa di vedere quali saranno le decisioni, senza creare allarmismi. È veramente di essere prudenti. Perché 6,57 possono essere semplicemente gli unici 6,57 che esistevano, che li abbiamo trovati, li isoliamo e finisce lì, ma possono essere l'inizio di una nuova curva. Non sono tanti, diciamocelo fino in fondo, 2,40 non è un'incidenza che ti fa venire l'ansia, il coccolone, però sono comunque 657 potenziali grandi diffusori, senza tutti quelli che non si trovano. Perché vorrei ricordarvi che questi sono l'esito di 26 mila tamponi, ma non abbiamo fatto 5 milioni di tamponi. Quindi il rapporto qual è? 2,40, ragionando vuoto per pieno, vuol dire che su 5 milioni 2,40 quanto fa? Evito di fare il conto, che dopo mi fate sempre... Allora, se il 10% è 500 mila, se l'1% sono 50 mila, 2,40 vuol dire che potrebbero esserci potenzialmente almeno 100 mila positivi che girano per il Veneto. Il conto l'abbiamo fatto velocemente. Più di 100 mila positivi. Quindi evitiamo di incontrarli o meglio, non possiamo sapere se li incontriamo. Teniamo le distanze, evitiamo gli assembramenti e osserviamo le regole. Guardate, io spero vivamente che si possa venirne fuori. Lo faremo ovviamente in rapporto anche al fatto che bisogna vedere quale sarà lo sforzo vaccinale, perché i vaccini sono la condizione sine qua non per affrontare questa partita. Capite che per noi la vaccinazione significa tornare, diciamo, a fra virgolette, a una libertà. Allora, qualcuno si meraviglia quando noi parliamo dei vaccini. Vorrei ricordarvi che ci sono già delle comunità che possono tranquillamente dichiararsi Covid-free. Penso allo Stato di Israele, tanto per dire, no? La Gran Bretagna che ha già vaccinato 15 milioni di cittadini o altre comunità che stanno vaccinando. Pensiamo agli Stati Uniti. Biden, ve lo ripeto, al suo insediamento ha detto un milione di vaccini al giorno. 100 milioni in 100 giorni. Sapete, queste sono le grandi sfide. Chi avrà per primo, raggiungerà per primo traguardo, avrà più mercato a sua disposizione. Brutto da dire, ma funziona così. Soprattutto in un Veneto, ve lo ricordo, dove qualcuno si chiede, magari distante da queste terre, si chiede perché ci preoccupiamo tanto. Intanto perché fare gli amministratori significa preoccuparsi dei propri cittadini. Noi non facciamo la vita delle tartine. E poi perché quando tu hai la prima industria in Veneto, che è il turismo, e sai che il 66% dei turisti sono stranieri, capisci da solo che o gli garantisci il Covid-free, oppure il tuo potenziale cliente internazionale, qualche perplessità o qualche problema lo può avere. Non vi parlo delle imprese che da noi sono sostanzialmente tutte internazionalizzate, o di prima mano o di seconda mano, tutte dipendono da mercati internazionali. Questa è una regione sulla quale appunto va ricordato, si contano 160 miliardi di pillo all'anno. Qualcuno diceva, ma è scandaloso sentire parlare di miliardi, di queste robe, ma sentite, servono per mangiare, per vivere, per aprire le scuole, per dare i trasporti, per curare i cittadini. Cioè non vorrei che qualcuno avesse disconnesso la sua mente e pensasse che il denaro sia avulso dalla nostra vita. Cioè il valore che i nostri lavoratori e i nostri imprenditori creano, i nostri cittadini creano, è un valore che si traduce in sanità, istruzione, cultura, ambiente, territorio, tutto quello che vedete. Non solo a livello locale, ma anche nazionale, perché il Veneto è anche un contribuente netto, lascia 15 miliardi all'anno a Roma. Sui vaccini io non ho grandi novità, nel senso che, forse ci raggiunge il dottor Flor, che oggi è andato dai NAS, aveva l'appuntamento con i NAS e quindi è andato dai NAS. Se ci raggiunge poi vi darà lui aggiornamenti rispetto al coso. Come sapete, lo ripeto per l'ennesima volta, io non ho avuto nessuna interlocuzione con i potenziali intermediari o proponenti, definiamoli così. Non ho mai voluto neanche vedere la corrispondenza, lo potete chiedere al dottor Flor, anzi era presente anche l'assessore Lanzarico, ha sempre detto questa roba della struttura è giusto che la segua la struttura, abbiamo totale fiducia nel dottor Flor. Abbiamo sempre detto legalità come abbiamo sempre detto a voi, no? Dopodiché noi facciamo il nostro dovere, perché se uno suona il campanello, cosa è che si dice? Chi è? Noi abbiamo fatto la stessa roba, al punto tale che in tempi non sospetti, senza dirlo a nessuno, avevamo scritto ad AIFA. Il 3 di febbraio noi abbiamo scritto ad AIFA. Abbiamo detto, guarda che c'è sta roba, chiediamo un'autorizzazione a vedere se si può. Non abbiamo negoziato prezzi, anzi, non ha il dottor Flor mi ha detto che non ha fatto nessuna negoziazione, non ha fatto nulla di nulla, perché siamo in attesa di autorizzazioni. Abbiamo sempre detto, che tutti capiscano bene, che noi non siamo nelle condizioni di sapere se è buono o meno. Per cui abbiamo sempre detto che ci vuole un ente terzo che valuti se poi le eventuali proposte di fornitura sono valide. Tanto è vero che abbiamo interpellato AIFA. AIFA dopo dieci giorni ci ha dirottato dal commissario e il commissario correttamente ha detto che bisogna farci dare, al dottor Flor ovviamente, bisogna che si faccia dare i numeri dei lotti. Il dottor Flor li ha chiesti, punto. Dopodiché, sentite, vi svelo un piccolo segreto di Pulcinella. Ho chiesto io al dottor Flor di scrivere a INAS il 12 febbraio, quindi c'è anche corrispondenza, che abbiamo anche avvisato INAS. Nel senso che abbiamo avvisato INAS della... il dottor Flor ha scritto INAS e ha scritto, vi informo, che abbiamo scritto ad AIFA perché c'è sta roba, punto. Nell'ottica della leale collaborazione fra le istituzioni. Peraltro posso anche aggiungere una cosa, mi permetto di dire una cosa che dovrei dire in punta di piedi e ho il massimo rispetto per il lavoro della magistratura. Benvenga l'operazione che fa Perugia. Perché finalmente farà chiarezza e ci metterà nelle condizioni di capire, visto che qualcun altro non l'ha voluto fare, di capire se siamo davanti a un popolo di milantatori o, peggio ancora, di truffatori o, peggio ancora, di persone che non hanno ben capito che lo stanno facendo, oppure se tra i tanti ci sono anche coloro che magari effettivamente qualche cosa di buono, di vaccino, ce l'hanno. Ma questo non ve lo sappiamo dire noi. Quindi io auspico che questa verifica fatta tramite i NAS sia profonda e sia anche incisiva. Perché una volta per tutte si finisce di sentire i discorsi da stadio, sapete quelli che sentite su in tribuna, no? Guardate, noi siamo a bordo campo, abbiamo la responsabilità e vi ho dato i due scenari. Se ti offrono qualcosa è l'obbligo di verificare se è vero o no. Perché sapete, io le ho viste alcune attività fatte post prima fase. Anche voi se fate mente locale le avete viste. Avete visto quando intervistavano qualcuno e diceva ma io ho offerto le mascherine e nessuno mi ha dato retta, io ce le avevo le mascherine. Cioè si capovolgeva la situazione. Da un lato c'era chi era accusato di averle comprate in maniera roccambolesca. Dall'altro chi diceva di averle offerte e di non aver avuto nessuno che rispondeva. Allora, mai accadrà che qualcuno dirà in giro che la Regione del Vento non ha risposto o ha chiamato sui vaccini. Dopodiché, son vaccini o acqua distillata, queste frasi vi ricordo, lo ricordo soprattutto a quelli collegati che magari si collegano solo oggi e pensano di aver scoperto l'acqua calda. Ve le ho dette fin dal primo giorno. Quante volte vi ho detto? Se è acqua distillata o sono vaccini ce lo dirà chi è preposto a dircelo, di certo non noi. Come è pur vero che stiamo davanti a un farmaco e prima di andare a acquistare un farmaco bisogna avere la certezza matematica che sia tale perché comunque viene inoculato ai cittadini per la loro salute. Punto, tutto qua. Io non ho altro da aggiungere, non fatemi altre domande sui vaccini perché non potrei aggiungere altro perché se arriva il dottor Florio vi dà aggiornamenti, onestamente non so neanche se ha avuto risposta sui lotti. Vi dico anche questo perché non so perché l'ho visto di sfuggita stamattina, mi diceva che aveva l'appuntamento, anzi ma ce l'aveva già detto ieri che aveva l'appuntamento con i NAS che di riferimento sono su Treviso e quindi ce l'avevano forse un po' tardi, 10 e mezza, 11, però mi ha detto che forse contava di riuscire ad arrivare per mezzogiorno e mezzo. Prego, avete domande? Zambon, adesso faccio io l'ordine secondo le mani. Comincia Zambon che è stata la prima. Prego. Buongiorno, capisco che dobbiamo aspettare il dottor Florio per qualche dettaglio in più, ma non abbiamo idea quindi se abbia avuto risposto o meno su un numero dei lotti, stava dicendo? No, non lo so Martina, non lo so. E la lettera invece che lei ha chiesto di scrivere in AS il 12 febbraio, era una comunicazione? Dettagliamo un po' meglio? No, 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 avvisare in AS che a me sembra fondamentale che era stata inoltrata una lettera ad AIFA per questo motivo, vuol dire che avessero contezza di quello che stava succedendo. E l'incontro di oggi invece che ha questo legame parte appunto da Perugia? Guardate, io non lo so, immagino che sia legato il fatto di Perugia e il fatto che oggi si incontri con i NAS a Treviso e porterà le carte, porterà i nomi di questi signori che io non conosco. Cioè, ieri l'ho detto, se mi torturassero perderei la vita perché non sono neanche i nomi di questa gente qua. Quindi il dottor Florio non le ha comunicato se i nomi da cui parte l'inchiesta di Perugia sono gli stessi che si sono fatti vivi anche qui o se ce n'è almeno uno? No, no, ma penso che non lo sappia neanche, non so neanche quale sia. Mi sembra di aver capito che da Perugia partiva in virtù di una segnalazione su un nome, ma non so neanche se fa parte dei nomi che hanno contattato. Che abbiamo ricevuto noi. Vabbè, speriamo arrivi. Guardate che il meccanismo delle segnalazioni è stato molto semplice. La stragrande maggioranza chiamava direttamente in segretaria. Cioè, non è che abbiamo fatto tutte queste fatiche. Cioè, ve lo posso anche dire, vi ho fatto un esempio, che è proprio tutto Veneto, di un genitore che chiama e dice mia figlia lavora presso questa Big Pharma negli Stati Uniti. Forse c'è la possibilità di avere un contatto diretto per avere vaccini. Preso l'indirizzo, girato a dottor Florio, ha detto, dottor Florio, il giorno dopo ci ha detto, guardate, l'ho contattata, ho parlato con il responsabile e hanno detto di no, basta. Chiuso. Cioè, questi sono i contatti che ha avuto. Le chiedo un'ultima cosa. Prego. Di fronte a settimane intere in cui questa iniziativa del Veneto e anche di altre regioni è stata anche asperamente criticata, questione morale, li sottraiamo a qualcun altro, è una situazione opaca. Lei sta pensando di dire, fin qui ci ho provato, ma mi fermo? No, guardate, noi abbiamo fatto il nostro dovere e penso che sia fondamentale fare il proprio dovere. Cioè, male non fare, paura non avere. Cioè, non siamo andati a rubare, non siamo andati al mercato nero, non siamo andati a mercanteggiare, non abbiamo fatto nulla di tutto questo. Abbiamo raccolto delle istanze, abbiamo avvisato le autorità che le istanze venivano lavorate e abbiamo chiesto la validazione. Punto. Cioè, cosa dovevamo fare? Mi chiedevo se adesso non avesse la tentazione di dire di fermo. No, guardi, invece io sono molto ansioso di vedere l'esito di queste verifiche. Ma non perché, guardate, io non ho certezze che siano tutte brave persone o non lo siano perché non li conoscono, non so neanche i nomi. Però è giusto perché è una curiosità da cittadino, no? Come ripeto, anche ieri l'ho detto, avremmo evitato tutta sta roba se le tre aziende autorizzate a EMA avessero detto, guardate, fuori dal contratto europeo, sono tutti delinquenti. Punto. Era finita lì. Grazie. Scusa, tutti delinquenti. Vendono prodotti che non sono nostri. Bastava questo, era finita. Però come facevamo noi a esimerci dal verificare? Impossibile. Potremmo essere accusati, perdonatemi, accusati, fra virgolette, perché non abbiamo commesso nessun reato, potremmo essere stati, come si dice, eticamente e moralmente accusati se avessimo fatto tutto in segreto e poi è forse arrivato qualcuno di voi e avessero detto io ho scoperto che state trattando, ma non abbiamo fatto nulla di tutto questo. Cioè, alla luce del sole. Più alla luce del sole è di venire qui da voi a raccontarvi tutti i giorni questa partita. Almeno lo si riconosca, no? Abbiamo sempre questa idea della politica, che c'è sempre sta roba, sta melassa, robe nascoste. Facciamo tutto la luce del sole. C'è una colpa anche questa, per carità. Metteteci in croce, cosa volete che vi dica. Salmaso, poi Andriolli, poi Parisi e Giacomozzo. Buongiorno, Presidente. Scusi se magari rischiamo di essere un po' monotoni in ripetitività del tema dell'argomento, però lei mi pare che ha capito benissimo il meccanismo della comunicazione, quindi sa che purtroppo su questa vicenda dei NAS l'interesse è assolutamente rilevante. Ecco, io mi permetto di chiedere. Nessuno qui ha mai messo in discussione la buona fede e la trasparenza del Veneto. Questo mi pare chiaro. Lei è stato... Qualcun altro sì, non voi. No, noi no. Dico, direi correttissimo nel raccontare fin dal primo minuto l'evoluzione delle tappe. Devo dire però che alla fine i dubbi, gli interrogativi sono estremamente pesanti. Ad esempio, ieri sera una trasmissione televisiva ha raccontato, ha fatto vedere dei documenti ufficiali della Regione Veneto, e quindi lasciando capire che un canale di trattativa è stato aperto in maniera direi formale. Quindi io le chiedo cosa ne pensa dell'operatore BR00, punto interrogativo, che risulta registrato nell'elenco degli intermediari farmaceutici riconosciuti dal Ministero della Salute e che sostiene, almeno in questa trasmissione televisiva, di aver operato con sede in Belgio per nome e per conto della Regione Veneto, perché questi sono i documenti che sono stati mostrati. E poi c'è un altro personaggio che compare in questa trasmissione, tale avvocato Cavallaro, che è appunto Giuseppe Cavallaro, che si è qualificato come mediatore e legale rappresentante di un broker farmaceutico internazionale. Quindi questo è spiegato nei dettagli. Primo che c'era stata una trattativa con la Regione Lombardia per una fornitura di AstraZeneca e poi c'è stata una trattativa più o meno analoga con Pfizer. Ecco, quindi voglio dire, le informazioni girano in maniera, direi, diversa rispetto anche alla giusta cautela che lei ha avuto. Se ci può dare qualche elemento in più, non so se... Ma guarda, allora, prima roba di questi signori, di questi fatti, non so assolutamente nulla. Ma registratelo bene. No, no, appunto... Non mi dicono nulla i nomi, non mi dicono nulla le procedure. Dopodiché, se il dottor Flor ad una offerta di disponibilità ha risposto, diteci cosa avete in mano, non so se sono queste le carte, il dottor Flor ha tutto messo da parte che consegnerà i NAS, consegnerà... Ecco, vorrei ricordare, beneficio di tutti che questa vicenda riguarda tutte le regioni che hanno... Sì, sì, sì. No, diciamolo perché, siccome il Veneto fa sempre notizia che non succeda come i Fas, che dopo sembrava che i Fas li aveva solo il Veneto. Ecco, ricordiamo che tutte le regioni che hanno dichiarato, cioè, dall'Emilia Romagna, piuttosto che il Piemonte o la Lombardia o chi... Per cui, però io non mi so dire nulla, non mi dicono nulla i nomi, non li conosco neanche per altri motivi, ci sono mai neanche sentiti questi nomi qua. No, è fuori discussione che l'Avvocato Cavallaro non dica nulla. Sarebbe interessante sapere chi rappresenta come blocchio farmaceutico. Non c'ho la più palla di idea, ma magari se ha avuto corrispondenza, appunto, con la nostra azienda zero, con gli uffici, magari non ha neanche detto chi rappresenta, ha semplicemente continuato a mandare mail. Non ve lo so dire. No, no, è questo il punto, perché l'altra domanda che tutti suppongono... Fermo restando che potrebbe essere legittimo tutto quello che ha fatto questo signore. Ma nessuno dice di no. Il problema mi pare evidente nel momento in cui questo si propone come soggetto economico autorizzato a trattare per nome e per conto di un brocchio farmaceutico internazionale, credo, abbia titolo e nessuno l'ha bloccato. Cioè, qui, adesso non so se ci saranno delle sorprese, la cosa che fa un po' discutere è che questo signore, mi pare, con un capitale sociale di un milione di mille euro, avesse tentato, giustamente, di opzionare, se questo è il termine, contratti farmaceutici per valori estremamente rilevanti. Cioè, stiamo parlando di centinaia di centinaia. Ma lo dovete chiedere a questo signore? No, no, e anche a chi ha fatto la trasmissione. Pensavo che lei... La Regione Veneto non ha opzionato nulla, non ha scritto nulla, di cosa stiamo parlando? No, no. Flora è stato chiaro ieri, è venuto qui, tu non c'eri. No, no, lo so. Ha dichiarato, noi non abbiamo neanche iniziato le trattative, perché non siamo autorizzati a farlo. Punto. E quindi voglio dire, il fatto che lei abbia informato preventivamente in ASA probabilmente può aver dato una svolta anche a queste inchieste. Ma non ve lo so dire, magari l'ha fatto in autonomia, perché penso che non ci sia solo l'evento Veneto. Noi l'abbiamo fatto per correttezza, dicendo guardate che abbiamo chiesto ad AIFA un'autorizzazione a importare il farmaco da fuori. Sappiate che stiamo lavorando su questo fronte. AIFA dopo ci ha rimbalzati, per cui è fine. Al di là degli aspetti giudizionali. Però sai, perdonami, magari anche un po' fuori dall'interesse oggettivo dell'articolo. Cioè, diventa, secondo me, come si può dire, diventa anche utile per noi cittadini capire se queste cose presentate con la ragione sociale, i mille euro, cioè, sono poi vaccini o sono chiacchiere? Ma se sono vaccini, è la domanda che faccio io. A fine, se arriviamo accendiamo la luce e vediamo che sono vaccini. Cosa si fa? Ma, appunto, io non voglio fare dialoghi con lei ed essere... È il quesito che noi ci siamo posti, no? Allora, questo signore sostiene che, appunto... Non l'ho intervistato? Certo. Ah, non so. Guardi, adesso io l'ho registrato per evitare, come dire, chi ci si fiaschi, ma al di là di questo, se vorrei dirlo un giro poi, ma lo trova, credo, in tutti i siti. Cioè, nel momento in cui questo signore sostiene che per muoversi sul mercato secondario c'è bisogno di una lettera di incarico formale arrivata da una regione, perché lui dice i governi non possono trattare al di fuori di quello che ha stabilito l'Unione Europea, invece le regioni, dal suo punto di vista, l'ho detto anche la Commissaria Europea. Perfetto, benissimo, dice. Allora, io devo avere la garanzia che la regione che mi affida l'incarico sia assorbibile, quindi serve una lettera internazionale. Vogliono verificare se... Ma questo è tutto opposto. Benissimo. Non siamo arrivati neanche i preliminari. Allora, la domanda è questa. Cioè, questi 27 milioni di dosi, da dove saltano fuori se Pfizer ha tagliato le forniture e tutto il mondo è, come dire, con l'acqua... Ha tagliato le forniture? A me risulta che Pfizer... L'Italia l'ha tagliata del 20% e questo è il punto. No, no, scusa. A me risulta che Pfizer ha scritto all'Italia, ha detto ci sono forniture in più, siete interessati? Alcuri, venerdì 12, ha risposto di sì. Eh, allora appunto, allora vuol dire che Pfizer racconti di maniera diversa. Ma io non so cosa racconta Pfizer, non mettetemi in bocca queste robe. Ho semplicemente detto cosa è accaduto. Ma noi vogliamo capire... Ma capire da me, andate a chiedere a Pfizer, cioè, cosa so io di queste robe? Non ho neanche mai visto il contratto europeo. No. Ma volete capire che partiamo da un problema, che non conosciamo il contratto europeo? Benissimo. Questo è il vero tema. Io resto ad un'ansa, poi cedo la parola ai colleghi, ad un'ansa pubblicata noi oggi e i giornali ieri di Pfizer che dice noi teniamo rapporti soltanto con i governi ufficiali. Bene, allora questo lascia intendere che molto probabilmente le dosi prodotte e negoziate con l'Unione Europea sono già tutte commercializzate usando questo termine e che il mercato non dispone di altre forniture. In realtà non è così perché giustamente... Ma non sono io che so qual è la produzione di Pfizer, quali sono i contratti, se ci sono concessionari, se c'è gente licenziataria che può andare in giro, se c'è qualche fondo di investimento che al suo interno è riuscito a sottoscrivere delle opzioni per dei vaccini. Cioè, stiamo parlando di multinazionali che c'è una roba paurosa, c'è... Cosa volete che... è come stessimo qui a parlare del futuro di McDonald's piuttosto che di Coca-Cola. Cioè, facciamo fantasie, ci avete capito. Va bene. Ma anche nel rispetto di queste multinazionali non conosciamo neanche i contratti che hanno non con l'Europa, con il mondo. Scusatemi, è vero o non è vero che lo Stato di Israele si è approvvigionato con 30 milioni di dosi e ha vaccinato tutti gli israeliani? O no? Sì, Israele... Qualcuno gliela avrà venduta, no? A 9 milioni di abitanti? Cioè, noi a 4 milioni ci siamo arrivati in Italia, dico con grande difficoltà, vedevo oggi i dati forbiti... chi ha avuto molto di più di noi in proporzione, quindi vuol dire che vaccini ce n'erano o no? Sì, questo l'ha ammesso anche l'Unione Europea di aver sbagliato le procedure, probabilmente di aver sottovalutato... paura che sono stati più bravi gli altri, come sostengo io, a negoziare. Non faremo mica la colpa allo Stato di Israele perché poi è riuscito a procurarsi i vaccini o gli Stati Uniti o la Gran Bretagna. Chiediamoci perché noi ne abbiamo di meno. Forse ci diamo anche la risposta velocemente. E non possiamo neanche dare colpa a Pfizer o a Moderna o a chi altri perché noi abbiamo di meno vaccini. Qualcuno di voi conosce il contratto europeo? No, qualcuno... Andriolli. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Non so, sembra che alla fine vogliamo creare tutti quanti più confusione di quanto... Appunto. Però mi stupisce che dal suo punto di vista da Presidente della Regione Veneto non abbia anche la curiosità di andare a sfruttare mettendo anche in chiaro alcune cose. Allora, è vero sulla capacità delle Regioni di potersi anche comprare i vaccini. Non è vietato. Quindi non c'è nulla di moralmente brutto e addirittura giuridicamente possibile. Però mi fa specie che lei a un certo punto sia curioso ma fino a un certo punto non vada oltre. Allora, i contratti non sappiamo quali siano e come li abbiano firmati. C'è il sospetto che l'Europa qualcosa non abbia gestito bene prima e continua a non gestirlo ora. Certo. Perché a questo punto se la situazione è questa vuol dire che al di là c'è anche un mercato parallelo non lo so l'immagine. Sì, ma è questa la confusione che nasce anche nel cittadino che magari aspetta la sua dose e non sa quando gli arriverà. Allora, è contento che la Regione si dia da fare ma vorrebbe che la storia fosse raccontata tutta non aspettando l'inchiesta della Procura e le indagini dei NAS. In che senso? Che c'è anche un interesse della Regione nel vento a capire come stanno le cose. Infatti abbiamo chiesto alle autorità nazionali di asseverare e di validare quello che scrivono questi signori o no? A chi lo dobbiamo chiedere? No, appunto. Non abbiamo chiesto un intervento di AIFA non abbiamo chiesto ad Arcuri e il dottor Arcuri ci ha chiesto fate evitare i numeri di lotti cosa dobbiamo fare? Prendere un investigatore privato e farlo girare per l'Europa? Cioè no? No, ma fa strano che AIFA per quanto mi compete deve fare la differenza tra un vaccino e l'acqua di rose e su questo posso capire. Arcuri molto più interessato a sapere se sono i lotti perché poi deve verificare che non siano quelli promessi pagati dall'Europa per l'Italia e poi magari dirottati perché non si capisce. E che siano vaccini veri? Sì, e che siano vaccini veri. Allora, finché lo si fa con l'Africa a nessuno interessa quando si tratta di vaccini o di farmaci quando si riguarda l'Europa siamo molto più attenti però è un mercato sembra che nasca la storia di un mercato parallelo dei vaccini che fa inorridire in un periodo come questo. E nei cittadini Non ve lo so dire. No, no, ma anche noi lo sappiamo stiamo raccontando Non rientra nella nostra facoltà riuscire a capirlo cioè bisogna che siano gli inquirenti che facciano le verifiche non noi e ci siamo premurati perché le facciano o no? Possiamo vedere che facciamo dopodiché io penso che si sta anche veloci ripeto a Monte bastava una dichiarazione di chi produce vaccini e dice guardate questi non sono vaccini era finito. Cioè mettetevi anche i nostri panni cosa dobbiamo fare adesso è spiare una colpa perché ci siamo preoccupati. No, un'ultima domanda poi giuro che non parlo più siete riusciti in questa interlocuzione a capire l'eventuale fornitura di questi 27 milioni di dosi che secondo appunto gli intermediari ci sono sul mercato in quali tempi potrebbero arrivare? Non ve lo so dire. Ecco, se sono vaccini che arrivano tra una settimana perché se arrivano a maggio non ne so nulla è evidente che ci sono sul mercato perché da qui ad aprile le cose cambieranno in maniera decisamente considerevole. Ecco, questa era una curiosità per sapere se poteva essere una fornitura importantissima per l'Italia per superare questa fase di strozzatura iniziale o se invece giustamente le aziende collocando sul mercato prodotti con una strategia a lungo e a medio termine cercano di vendere lotti per periodi successivi come rientra nei loro giusti programmi aziendali di pianificazione insomma. non ve lo so dire perché non non so neanche se siano arrivati a formulare diciamo una simil proposta dettagliandola così non lo so ma è bene che io non lo sappia no? Perché ci si lamenta sempre dei politici che si occupano di fatti amministrativi questo è un fatto amministrativo se la vedono gli uffici cosa volete che vada io a occuparmi delle trattative per la ragione ma non esiste. Guardate io mi ricordo quando sono stati comprati i respiratori anche lì era immorale andare a comprare i respiratori ma abbiamo salvato la vita delle persone e questa è una situazione simile no? Vi ricordate perché poi noi abbiamo una memoria abbastanza labile no? Vi ricordate che era proibito comprare qualsiasi fornitura di mascherine e respiratori nella prima fase perché non ce lo ricordiamo più ma tu non potevi andare a comprare dove aspettare la fornitura nazionale dopodiché arrivarono gli intermediari ad offrire e tutti un po' sono riusciti a comprare in maniera ufficiale con degli avvisi eccetera perché è una situazione simile ovvio che oggi c'è di mezzo un farmaco è roba molto più seria e se Andrioli ha terminato Parisi no? non è terminato non ha terminato prego volevo allargare un attimino oggi è il giorno dei colori si brava grazie ecco almeno così abbiamo qualcosa da raccontare di si guardate sui colori noi abbiamo degli indicatori come dicevo anche ieri che ci fanno assolutamente pensare che saremmo in zona gialla abbiamo dei tassi di occupazione sia delle terapie intensive che dell'area non critica decisamente bassi rispetto ai due parametri che sono 40% per l'area non critica e 30% per le terapie intensive cioè superato il tasso di occupazione da 30% delle terapie intensive scatta il warning scatta l'allarme quindi noi abbiamo tutti i parametri bassi abbiamo sul 10% 10-12% per entrambi e rischio penso che sia basso in questa fase perché sapete abbiamo rischio basso moderato alto quindi è da zona gialla ad oggi è da zona gialla però sapete siamo ormai circondati siamo ormai circondati da scusa a Sisi avevo capito da Siri ho detto cosa dice no ma guardate adesso io non so se ci sono anche altre zone arancioni no avevo capito Siri ma con la mascherina no dicevo comunque considerate che abbiamo l'alto adige però Val d'Aosta è in bianco quindi abbiamo l'alto adige che è una situazione pesante e il ministro che io ho sentito anche stamattina e comunque ha annunciato nei scorsi giorni che comunque qualche zona arancione ci sarà in più i dati non sono sicuramente in in calo a livello nazionale questo è poco ma sicuro quindi Mirva per rispondere alla tua domanda prudentemente possiamo dire che sarà zona gialla l'ora del verde per il pomeriggio ma di solito sì pomeriggio tardo pomeriggio ci sarà ISS istituto super sanità CTS tutto il giro e via di solito sì c'è da più informato di noi Andreoli ok un'ultima cosa prego ci tranquillizza nella fotografia regionale e poi ricorda sempre allargando l'orizzonte che in Italia non siamo messi benissimo poi se guardiamo in Europa siamo anche messi peggio come riuscire a far capire ai cittadini che dipende sempre dai nostri comportamenti per cui non mollare la presa vuol dire anche non muoversi non assembramenti non feste e farlo capire soprattutto a chi dall'altra parte della barricata ci vive perché è il suo mestiere il suo lavoro ma sai nel momento in cui noi abbandoniamo abbiamo abbandonato una zona con restrizioni penso l'arancione piuttosto che la rossa la responsabilità da collettiva passa a responsabilità soggettiva se tutti noi a quel punto non siamo più in zona rossa non siamo più con restrizioni dobbiamo cominciare a capire che dipenda da ognuno di noi abbiamo fatto di senso civico ma i veneti ormai la conoscono questa partita non possiamo dire che vediamo in giro gente senza mascherina perché non è vero la mascherina si porta bisogna stare attenti agli assembramenti puntare al distanziamento sociale insomma fare le solite cose che si fanno sempre che stiamo facendo da un anno ormai sì però da fermi vuol dire anche far morire il turismo cioè è la contraddizione stessa io non ho la bacchetta magica se ce l'avessi avrei già risolto il problema del covid il turismo guardate oggi perde 35.000 posti di lavoro è la prima industria in veneto con 18 miliardi di fatturato e penso alla montagna la tragedia che sta vivendo pensate che abbiamo i mondiali di sci è come se non ce li avessimo martedì c'era il carnevale l'ultimo di carnevale è come non ci fosse stato se penso che abbiamo un evento mondiale a cortina è sicuramente rilanciato a livello internazionale ma non lo stiamo vivendo come dovremmo viverlo io sono convinto che le olimpiadi a questo punto per fortuna che ce le abbiamo perché pensate che sono da qui ai prossimi 5 anni avremo le olimpiadi quindi saranno veramente io spero la sublimazione e la definitiva chiusura di questa partita avremo la fortuna di avere un evento mondiale come le olimpiadi quando altri avranno la loro montagna come si vede sfiancata e non sapranno come rilanciarla Parisi ve le ricordate le polemiche sulle olimpiadi quando ah lo ho detto anche da non lo sapevo ma guardate vi ricordate quando ho lanciato la candidatura di cortina che aveva stata una mia idea anche lì le polemiche ma chissà che accordi ci sono i delegati a livello internazionale poco etico andare a discutere perché io poi presi andai vi ricordo che andai in Giappone e lì in consiglio regionale dissero ma Zaya in Giappone invece di essere qui per fortuna per fortuna se mi sono queste polemiche ormai noi siamo abituati Parisi di nuovo buongiorno buongiorno senta a proposito di colori per quanto riguarda la questione che è uscita fuori nelle scorse ore dei weekend rossi lei ne ha già parlato ieri dicendo che non ha avuto contezza di questo nell'interlocuzione con Roma ma da ieri a oggi ha saputo qualcosa di più no posso solo dirvi che dalla mia esperienza finché non si rinnoverà il DPCM il modello non cambia può accadere che ci siano delle zone rosse locali ma quelle dipendono da situazioni epidemiologiche non da DPCM o regolamenti se scoppia un cluster importante in una zona di una regione è ovvio che lì la perimetrazione fai una zona rossa ma questo è già nelle corde di chi amministra che sa che deve farlo per cui siccome ha fatto la Lombardia hanno fatto altre realtà ha fatto l'Umbria ad esempio ha fatto le zone rosse Presidente domenica sarà 21 febbraio un anno dalla pandemia un anno da quando avò con lo scoppiare appunto dei casi è stata stravolta la nostra vita un anno che ci ha mostrato come sono cambiate le cure i nostri ospedali la nostra economia stravolta insomma tante famiglie che hanno perso tanti loro cari questo anno che cosa le ha lasciato cosa le ha insegnato anche in virtù di questa diciamo così intraprendenza del Veneto nel voler essere in prima linea per cercare di dare sollievo ai Veneti a me sembra che intanto l'intraprendenza sia gradita dei Veneti ma non ai non Veneti perché vedo che ogni roba che facciamo è un problema il problema è far tutto ormai qua in questo paese nonostante ci sia come si può dire un faro che è quello della legalità e del rispetto delle istituzioni considerate che per i vaccini io ho detto dottor Arcuri guarda se sono vaccini veri sappi che questa è una fornitura nazionale per quel che mi riguarda però al di là di questo detto questo io dico che non dimenticherò mai quest'anno è un anno nel quale noi siamo stati privati della nostra libertà è un anno che noi non abbiamo vissuto da liberi è un anno che per molti di noi o quasi tutti noi si è tradotto in un incubo è un anno che se qualcuno avesse iniziato a prospettarselo un anno fa avremmo detto guarda rinchiudi questo perché c'è qualcosa che non funziona mai avremmo pensato di vedere un paese che si chiama Vò un comune che si chiama Vò il mio saluto a tutti i cittadini di Vò fra l'altro perimetrato da un'ordinanza del Presidente della Regione con i militari che controllavano i barchi mai avremmo pensato di fare 7 milioni di tamponi mai avremmo pensato di avere 3.400 ricoverati in ospedale che vivevano la difficoltà di una persona che sta affogando voi avete una dimensione di cosa significa avere problemi respiratori mai avremmo pensato di dover programmare più del raddoppio delle terapie intensive di una Regione che storicamente ha sempre avuto quelle mai avremmo pensato che il modello sanitario che abbiamo disegnato per certi versi ci ha salvato per la sua efficienza ma per altri ci fa fare dei ragionamenti vi faccio un solo esempio avete notato che c'è stata una stagione nella quale l'ospedale è stato vissuto come un grande centro di happening commerciale la parrucchiera il bar la libreria che è una bella idea però abbiamo capito che negli ospedali ci devono entrare solo i malati mai andremo oggi a realizzare un ospedale con queste tutte divagazioni sul tema quindi torneremo probabilmente a quella corrente architettonica che è stata definita dal brutalismo dove l'ospedale sarà un parallelepipedo molto efficiente diciamo performante sotto il profilo delle cure durerà magari di meno perché poi sapete gli ospedali si riempiono di batteri si riempiono di patogeni e quindi dovranno necessariamente c'è la sanificazione fino a che punto possiamo pensare che si possa trascinare la vita di una struttura che ha comunque vissuto in mezzo a virus a batteri o altro e quindi verranno divorati e ricostruiti mai avremmo pensato di vivere un evento storico che ha una frequenza inferiore a una grande guerra mondiale le pandemie si contano sulle dita di una mano le pandemie mondiali mai avremmo pensato di passare le nostre giornate a parlare di morti di terapie intensive e di ricoverati mai avremmo pensato di girare con la mascherina vi ricordate all'inizio che parlare di mascherina sembrava quasi un tabù addirittura fece una polemica al collega Fontana perché fu il primo a mettersi la mascherina in un video e allora venne fuori il tema del procurato allarme l'allarmismo è un sindrome simile influenzale insomma guardate quest'anno è stato duro lo è stato per tutti noi cittadini noi ci sentiamo la responsabilità delle cure dei veneti i cittadini si sentono la responsabilità del poter portare a casa la pagnotta alle proprie famiglie gli imprenditori si sentono la responsabilità di poter pagare lo stipendio i propri lavoratori ed è però è stata un'esperienza tra tanta tanta negatività ha avuto un aspetto diciamo bello che è stato quello che abbiamo riscoperto una comunità e guardate che cioè il popolo veneto è venuto fuori tutto in questa vicenda e penso che tante cose tanti risultati non li raggiungevamo se non c'erano i veneti coalizzati contro questo virus dopodiché ne dobbiamo venire fuori velocemente e per venire fuori guardate che bisogna vaccinare ricordatevi le mie parole quando ho parlato di passaporto vaccinale mi hanno detto che non capivo niente adesso è normale parlare di passaporto vaccinale quando parlavo di isolamento fiduciario dei bimbi che tornavano a scuola e venivano dalla Cina mi dicevano che erano razzista adesso è normale avere duemila bambini in isolamento e nessuno neanche chiede quanti sono credetemi che fra qualche mese qualcuno dirà loro sì e tu no semplicemente perché alcune comunità saranno vaccinate altre no perdiamo competitività oltre che libertà Arisi sì un'ultima domanda scusi presidente che ci arriva da una telespettatrice di Treviso siamo ancora nella situazione in cui a molti familiari non è permesso andare a trovare le loro mamme eccetera in questo caso la mamma in una RSA sì l'assessore è esperta ormai c'è la mamma in questione che è una signora che ha quasi sui 100 anni ed è sordo è vaccinata ecco esatto e la figlia dice io mi faccio anche il tampone e voglio capire perché non mi permettono di andare a trovarla no stiamo proprio con la dottoressa Russo e con l'area sanità e sociale la direzione sociale stiamo predisponendo un protocollo nuovo per le strutture perché è chiaro che adesso ci sono le strutture che sono vaccinate la maggior parte insomma sono vaccinati ospiti e anche operatori a parte quelli che sono ancora positivi e quindi devono essere vaccinati dopo comunque c'è una buona protezione oggi come numeri allora abbiamo detto che bisogna assolutamente che ritorniamo con le dovute cautele quindi tampone piuttosto che mascherina distanziamento insomma comunque tornare a riaprire le visite quindi stiamo proprio cercando di buttare giù un nuovo protocollo e mi auguro che nella settimana prossima riusciremo proprio per permettere la riapertura dove è possibile è chiaro che se ci sono dei nuclei di positivi dobbiamo essere più attenti ancora attenti però ecco la volontà è quella di andare in questa direzione con le cautelle dovute però è di andare in questa direzione grazie prego a sto punto abbiamo Van Van e Giacomuzzo e Moscati al termine grazie Presidente solo una richiesta siccome la questione dei vaccini sta tenendo banco in tutte le regioni questa mattina il Presidente della Campania De Luca ha detto noi stiamo cercando di approvvigionarci di vaccini il Presidente dell'AIFA non ha detto quali no ha detto genericamente vaccini e ha detto però senza tanta propaganda magari nella riunione che avrete nelle prossime ore le chiederà perché da noi non è propaganda è trasparenza ecco magari vi chiarite tra di voi nella prossima riunione mentre il Presidente di AIFA l'Agenzia del Farmaco sostiene che le multinazionali le Big Pharma come le chiama lei hanno stabilimenti in tutto il mondo potrebbero esserci degli stabilimenti non validati dalle agenzie regolatorie e dice attenzione magari i vaccini li fanno lì e bisogna verificare ma perdonami ne approfitto attenzione cioè sono loro che devono dire siamo abbeni i vaccini o no cioè non possiamo noi non sappiamo nulla cioè non è che tu vai come si dice vai dal medico e ti dice prego appunto appunto ma cioè non siamo noi che dobbiamo stabilire se va bene comprare o no cioè tant'è vero che abbiamo interpellato chi di dovere cioè io non faccio un mestiere no? quando compriamo le altre partite di farmaci per capirci ci vengono validate non è che uno dice vabbè manda vediamo ci sono i lotti la tracciabilità c'è tutto e c'è l'autorizzazione AIFA per importarli adesso viene fuori che questa roba qua di certo non noi di certo non noi l'abbiamo sempre detto fino al primo giorno comunque queste erano due o tre messe per chiederle questo prima che finisca questa conferenza stampa possiamo verificare se il dottor Flora è tornato? provo a risentirlo magari noi siamo disposti ad attendere farà un comunicato o qualcosa magari proviamo a mandare un messaggio adesso a sentire se è partito ma sì è stato lui a dirmi probabilmente se la faccio arrivare dillo ai giornalisti anche perché oggettivamente è molto più informato di noi bene Giacomuzzo e Moscati buongiorno a tutti buongiorno Presidente non ho capito un concetto scusi perdone le chiedo di ripetere perché la Regione ha sentito l'esigenza di scrivere ai NAS e informare i NAS il 12 di febbraio ma invia assolutamente di dare collaborazione tra le istituzioni siccome l'abbiamo fatto in tempi non sospetti non aspetta perché è una prassi non lo so ma no ma lo facciamo un miliardo e mezzo di volte solo che oggi se parliamo di vaccini e tutti gli interessa dei vaccini potrei dirvi che quando si sono visti i sacchi nel video nella scarpata della pedemontana la prima roba che ho detto io all'ingegneria Pellegrini guarda fai subito una comunicazione in noi tanto è vero che sono usciti in noi ma non è che stiamo qui a dire ogni volta che facciamo una comunicazione tanto è vero che se non veniva fuori sto dibattito magari nessuno neanche si ricordava di dire guardate che il 12 febbraio è stata mandata una nota una nota molto semplice cioè guarda che abbiamo inoltrato sta richiesta da AIFA sappi che c'è perché ci rendevamo conto che il tema vaccino è un tema delicato quindi non c'è una prassi non eravamo neanche obbligati a farlo che sia chiaro questo lei diceva prima di aver avuto modo di sentire il suo ex assessore alla sanità che peraltro in Umbria da dove è partito tutto da dove sta partendo la procura per indagare ma anche per il peggio del peggio come ci diceva è una regione messa male quindi volevo chiederle uno se Coletto ha chiesto aiuto al Veneto in qualche modo visto che sono malmessi e la seconda cosa se comunque avete avuto uno scambio proprio sulle indagini della procursione no guarda Coletto mi ha detto bene guarda Luca è scuola veneta per cui anche io non so niente nel senso che è un rapporto diciamo intercettato dal dirigente che ha fatto la segnalazione che è bene eh sì madonna è stato direttore dell'azienda ospedaliera di Padova ti ha studiato bene questa domanda qua no ti ha fatto una rincorsa adesso tra un po' sarà colpa mia sarà colpa mia allora che sia che sia no scusa scusate siccome siccome questo paese vive solo di vive solo di retropensieri e di e di cospirazioni robe strane si sappia che il dottor Pavesi in totale autonomia sentitelo ha avuto questo contatto e io a me è stata data comunicazione il giorno che poi avete avuto notizia a tutti che non venga fuori che c'è il Veneto che mette un piede in Lombardia altre menate del genere ognuno è autonomo fa quello che vuole in Lombardia finalmente la Moratti ha scelto un manager cresciuto in una scuola di medicina di altissimo livello mattino dovete occuparvi del Veneto cosa è stato dei disastri della Lombardia direi che purtroppo la statistica purtroppo ci conforta questa volta in termini di tasso di mortalità intendo insomma di epidemi povera c'è l'unica che le fa lo so lo so tranquillo san maso porta via la parola era per chiedere non dico nulla sugli aiuti presidente se ci sono richieste di aiuti da parte di una di altre regioni al Veneto si scusami no scusa perché poi scherzando con Albino no guarda rispetto ai vaccini no anche tra l'altro anche anche coletto ma ho visto che lo hanno dichiarato anche sui giornali se non ho letto male ha detto vabbè se c'è poi un canale che si verificherà efficiente noi ci siamo ricordatevi di noi mi ha anche annunciato però non vorrei dire una cretinata perché non ho ancora visto la posta mi ha annunciato che addirittura ieri se c'è Federico può fare una verifica la presidente Tesei mi ha proprio scritto dicendo se se mai capitasse che sono veramente vaccini noi ci siamo vabbè è ragionevole tutti noi governatori se avessimo dei vaccini in più vaccineremo i nostri cittadini no ma io parlavo di vaccini parlavo di aiuti no ho finito dei vaccini adesso ti dico no non abbiamo parlato noi siamo sempre a disposizione è ovvio considerate che per quanto riguarda l'emergenza sanitaria covid esiste una struttura che si chiama la cross quindi a livello nazionale si destinano i pazienti in base alle difficoltà e alle disponibilità per dire noi nella prima fase qualche paziente ma sto parlando veramente di tipo una decina di pazienti li abbiamo ricevuti dalla dalla Lombardia allora però eravamo anche noi messi male quindi non siamo riusciti a aiutare la Lombardia come volevamo fare ci avevano chiesto un aiuto se non ricordo male quando noi eravamo in difficoltà a dicembre non mi ricordo più che ragione ci aveva chiesto un aiuto e per il personale chi era ha sempre la Lombria Lombria aveva chiesto comunque per il personale a tutta si aveva fatto richiesta alla protezione civile e anche lì non siamo riusciti perché vi ricordate avevamo gli ospedali strappieni cioè come potevamo distogliere il personale dalle nostre delle nostre corsie Poi Presidente le volevo chiedere un'altra cosa riguardo questi incontri che avete intenzione di fare con gli altri suoi colleghi Presidenti di Regione qual è il focus se si parlerà anche di rinnovo del DPCM no rinnovo del DPCM Temi di risarcimento ci sono novità? no però sicuramente ne parliamo per questa storia delle piste da sci non riguarda tutti però per noi è stato un problema insomma le regioni del nord e anche del centro Italia comunque sono coinvolte no dobbiamo fissare guarda io ho sentito stamattina anche il Presidente Bonaccini io immagino che una volta tra stasera e domani la si fa se si può se troviamo i numeri la facciamo parlo di conferenza dei Presidenti una curiosità non forse più per l'assessore Lanzarin liste di attesa dopo l'apertura delle prestazioni ambulatoriali delle attività chirurgiche possiamo avere un quadro non ho un numero nel senso so che sta andando sta andando bene nel senso mi dicono insomma che le urla sono ripartite tutte in maniera molto attiva però se volete per lunedì proviamo a capire rispetto a quei 90.000 che noi avevamo comunque come numero di persone in attesa quanto siamo scesi va bene lunedì ci sarà il Dottor Mongillo e probabilmente anche il Dottor Tonon e parleremo di piano vaccinale performance e tutto quello che sono poi le vaccinazioni fatte c'è un po' di numeri sullo stato dell'arte e poi c'è anche il grande tema della scuola e quindi il tema dello screening nella scuola e altro oggi hanno una riunione operativa sulla scuola proprio per quindi lunedì possono dare sono due dirigenti della Dottoressa Russo sono due giovani dirigenti fra l'altro della prevenzione e se vogliamo sentire il Dottor Flore e nel frattempo Moscati e poi chiudiamo poi il Dottor Flore se fa in tempo non ce la farà bene Moscati e chiudiamo grazie buongiorno Presidente buongiorno io ormai tante cose sono state dette per fortuna mi mancava solo una cosa lei una volta aveva parlato nel caso dei vaccini e oggi l'ha ribadito che Israele ha vaccinato tutti non è che ci siano dei lotti appunto di stati una volta l'aveva accennato destinati a stati no non lo so si è avanzato tra i vaccini non lo so guardate a me spiace sapete che perdiamo tutti tanto tempo e mettiamo magari in angoscia anche qualche cittadino quando sarebbe sufficiente che la Big Pharma fanno una conferenza stampa spiega tutto cioè vi chiamano vi dicono tutto quello che vogliono ed è finita lì ma siccome anche loro hanno la multinazionale una catena di trasmissione che esalonga ochiometri e immagino che ogni movimento sia lì capisco anche no perché la comunicazione è una grande struttura non è facile va bene non è come qua insomma dai passiamo ad altre cose così parlava di Vaux e un anno da Vaux l'altro giorno proprio dove preparare un pezzo su questo mi sono rivista la famosa conferenza stampa del 21 aprile scusa trovato la lettera aprile non ho finito di dire perché nella famosa conferenza stampa del 21 aprile dove il dottor Crisanti era presente e aveva parlato della famosa telefonata tra di voi e di come era partita tutto quanto si era parlato della ricerca quella ricerca che poi quando io le fece una domanda dopo mi disse mai saputo più niente siccome a me pare riguardando la conferenza stampa che lei avesse detto che era finanziata anche dalla regione Veneto è finanziata ecco allora siccome è anche interesse nostro saperne come è finita tra l'altro in base a quella a quello screening che era stato fatto eccetera lo stesso Crisanti diceva che non si capiva come mai alcune persone che pure stando nella stessa famiglia di contagiati o di ammalati non si erano ammalate non si trattava solo di bambini ma anche di adulti perché i bambini sicuramente fino ai dieci anni lui li aveva dati per immuni che poi si è verificato non essere esatto per cui siccome c'erano in ballo delle cose che poi invece è l'unico scappato dai laboratori sembra sempre il virologo mediatico perché alla fine invece di stare a fare gli studi c'è qualcuno che si preoccupa più di stare negli studi televisivi ma vorremmo sapere se quelli interessantissimo e finanziato dalla regione Veneto studio aveva portato a qualche non glielo so dire anche perché magari lo chiediamo alla dottoressa russo lunedì perché poi l'interfaccia è la dottoressa russo non so perché io ho visto la pubblicazione su nature ma non so poi che evoluzione c'è stata sì esatto ma poi ci mancava un pezzo dello studio perché ovviamente essendo passato un anno bisogna capire c'è stato anche se non ricordo male c'è stato anche il prelievo del sangue quindi la ricerca serologica infatti però non so non parlo di roba che non so che aveva escluso che proprio i bambini come quella volta avevamo ipotizzato non fossero non si fossero contagiati perché l'avevano preso magari prima il virus visto che all'epoca non si parlava ma oggi è stato ben detto e ribadito che invece l'epidemia era iniziata molto prima ecco quella era tutti i posti però poi essendo stato fatto il serologico toglieva anche da questi si per vedere se avevano gli anticorpi però non so quale sia l'esito allora aspettiamo la dottoressa invece una domanda per l'assessore Lanzarin mi chiedono gli anziani del Don Vecchi di Maestres ecco nomi no sono tanti mi chiedono quando potranno essere vaccinati vengono vaccinati sono ovvero per corte quindi se sono vengono chiamati dovrebbe essere arrivata la lettera quindi una settimana dopo l'altra adesso noi abbiamo le prossime settimane che saranno corte del 41 41 40 poi raggruppano le corti assieme perché c'è meno popolazione insomma di quelle corti quindi saranno chiamati a breve se hanno questa età se sono invece sono over mi parlano mi è arrivato ieri questa notizia che sono tutti over 80 e allora arriveranno saranno già arrivati qualcuno che era della corte del 41 probabilmente è già arrivato e faranno tutti Pfizer o Moderna sì perfetto grazie mille prego conclude Salmaso eh no una domanda di politica gliela posso fare presidente fino adesso cosa che ha tu fatto abbiamo fatto sanità di altissimo livello non hai fatto domanda di politica hai fatto politica che è una roba diversa beh dicevano gli antichi che tutto è politica quindi adesso evitiamo citazioni perché non c'è Filippo Tosato e quindi facciamo gli auguri a Filippo con l'altro no mi permetto di chiedere un saluto appunto grazie infinite appunto per l'attenzione che ha dimostrato al nostro collega e bene detto questo secondo lei la squadra di governo che rappresenta il Veneto deve essere rafforzata per quanto riguarda il suo partito ecco ovviamente i poteri di nomina dei sottosegretari appartengono al Presidente del Consiglio e però non lo so magari un'attenzione particolare alla sanità piuttosto che all'economia o al turismo lei la richiede ancora o ritiene che possa andare bene così insomma ma guarda deve un imperativo no io dico che ovvio il Veneto più rappresentato è meglio è ovvio questo però ciò non toglie che non si possa prescindere non prescindere dal fatto che ci sono poi anche dei numeri ci sono una rappresentanza che deve essere distribuita a livello nazionale per cui non so ma guardate io leggo come vuoi i giornali e che sia chiaro non è che partecipo a queste robe mi aggiano già a sufficienza per la Regione prego bene Andrioli conclude vabbè se hanno da far domande siamo qua apposta ebbè no DPCM Federico per favore the last call a Florida è l'ultima chiamata no gli diamo appuntamento che non si muove a Treviso andiamo a trovarlo scala il 5 marzo il DPCM del 16 gennaio che cosa temete cambi che cosa vorreste che restasse che cosa deve cambiare o che cosa deve restare Milva il vero tema è quale sarà la situazione epidemiologica che lo scrivendo DPCM si troverà a dover governare perché il DPCM è una sorta di abito ossertoriale quindi se il tema sarà la mutazione brasiliana l'inglese è un'epidemia importante capite che il DPCM avrà delle regole più ferre nella per la vita di noi cittadini se invece ci permetterà di pensare già alla primavera è un'altra roba bisogna vedere cosa accadrà la prossima settimana però appunto con Bonaccini e gli altri presidenti quali sono gli aspetti che vorreste dobbiamo incontrarci no credimi il foglio è bianco dobbiamo incontrarci anche perché considerate che si siede il Veneto che potrebbe dire mi però il Veneto è anche solidale cioè quando chiedevamo noi di avere misure gli altri magari andavano bene e altri invece sono in grossa difficoltà immagino che l'Umbria si interviene o l'Abruzzo diciamo ragazzi guardate qua non vedo alba quindi cercheremo di trovare una misura perché poi il virus non conosce i confini inutile che stiamo qui a pensare che si fermi sul Po cioè non funziona così grazie signori buon lavoro grazie 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 a tutti grazie a tutti